Corsia 6, Ugo Dallapria, il Corsia 6, Iesolo Nuoto, Corsia 5, Monte Nuoto, Corsia 4, Rencade Nuoto, Corsia... Si alza la bandiera della CSS per Renato Fanuso. Si allza la bandiera della CSS per Renato Fanuso. Se è in camp unità danza qualcosa che si stendia. Puccino! Al tempo, al tempo, ci sono Le bandierine dietro di voi, ragazzi Potete uscire, ragazzi, un attimo, si è rotta la bandierina Abbiamo tastato l'acqua Lo allunghi, esatto Allungarlo No, ma devi... esatto Renato? 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 Buona capatola Come capirete per il dorso è assolutamente fondamentale rimettere a posto la bandierina Perché non vorrei mai vedere qualcuno che si schianta sul blocco E questo è un commento sempre autobiografico Grazie 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 E io direi che un applauso per l'intervento immediato A risoluzione ci sta veramente Ricordiamo Corsia 2 Marzia Fontana 2001 Padova Corsia 3 Renato Zanotto CSS Corsia 4 Erika Benetazzo Rugade Nuoto Corsia 5 Leonardo Giardini Monte Nuoto Corsia 6 Ugo Dallapria Iesolo Nuoto Corsia 5 Corsia 5 5 5 euro e intanto chiamiamo a prepararsi verranno mandati quando, ripetiamo, gli atleti saranno usciti dall'acqua corsia 2, non c'è Alessandro Gaeta corsia 3, capitano dalla Montenuoto, Claudio Bolletta corsia 4, Viribus, Uniti Matteo, Padoin corsia 5, Padovanuoto Sabrina, Di Tommaso corsia 6, dalla quale a Vicenza Mauro, Raffaello corsia 6, centro nuoto le bambie Alberto, Mazzon le bambie c'è, sì che c'è e ricordatevi, anche se guardate il cielo la regola è Eye of the Tiger Eye of the Tiger l'occhio della tigre l'occhio della Tommaso e siccome la puntata لم double nei Grazie a tutti. Leclerc in pole position, attenzione a Monaco, Leclerc in pole position, veramente a Monaco può succedere l'impensabile e quindi Leclerc conquista la pole position. A questo punto andiamo a prendere l'aggiornamento e andiamo a vedere cosa sta succedendo nuovamente sul monte Zoncolan perché dovremmo essere prossimi all'arrivo di tappa del Giro d'Italia. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. 9 chilometri all'arrivo, il gruppo con 5 minuti di ritardo, però 9 chilometri alla salita, all'arrivo dello Zoncolan. Grazie. 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 uscite uscite che così entrano i vostri colleghi della serie numero 2 dei 200 d'orso grazie